Sono aperte le iscrizioni per il decimo anno del campo estivo di Murata Gigotti, organizzato e gestito dalla Proloco di Coppito, un campo estivo che si rivolge a bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni. L'iniziativa estiva della Proloco, caratterizzata da attività ludiche e di avviamento alla cultura della protezione civile per bambini e ragazzi, prendere il via l'11 giugno per concludersi l'8 settembre. Tutte le informazioni in dettaglio alle famiglie verranno fornite direttamente nella sede della Proloco di Coppito a Murata Gigotti. Per informazioni la mail prolocodicopito.gmail.com si può chiamare anche il numero 333 4583 341.